inglese per principianti lezione 2 clicca sul pulsante verde per iniziare impara i pronomi personali io i tu lui lei esso noi voi loro domanda 1 clicca sulla parola corretta vorresti riprovare? molto bene domanda 2 clicca sulla parola corretta vorresti riprovare? molto bene domanda 3 clicca sulla parola corretta vorresti riprovare? molto bene congratulazioni hai terminato l'esercizio clicca per continuare a imparare